Io lavoro prevalentemente su Friedrich Nietzsche, quindi la filosofia tedesca dell'Ottocento, e sono tra gli editori dell'opera di Nietzsche in Italia. Maria Cristina Fornari, toscana da 15 anni a Lecce, è tra i 5 ricercatori premiati dall'Università del Salento. Un riconoscimento all'eccellenza, alla produttività innovativa che ha portato l'Ateneo Leccese alla visibilità nazionale ed internazionale. La cerimonia di consegna dei premi si è svolta nella sede del Rettorato, ad esprimere il top della ricerca che viene svolta nell'Ateneo Salentino anche Luca Catarinucci, perugino, ricercatore di campi elettromagnetici, Cristian Tomaspoeg, Estone, unico straniero del gruppo ma da anni nel Salento, e ricercatore di storia medevale. E tra le eccellenze non potevano mancare due salentini, Andrea Ventura di San Nicola in provincia di Lecce, ricercatore di fisica nucleare e in passato assegnista al CERN di Ginevra, e poi Pierangelo Buongiorno, ostunese, ricercatore di diritto romano e diritti dell'antichità. L'obiettivo è arrivare alla fine di questa ricerca, che durerà ancora molti anni, ad una cosa completamente nuova, che è una catalogazione completa di tutte le deliberazioni del Senato romano, che ad oggi manca. I riconoscimenti sono stati finanziati dalla Banca Popolare Pugliese, 15.000 euro da dividere per 5 ed assegnati sulla base di un concorso interno. È solito attraverso la conoscenza si può pensare di poter uscire da un momento così difficile, e la ricerca in questo momento rappresenta evidentemente l'eccellenza in campo della conoscenza, con la speranza che in qualche maniera poi possa riversarsi anche nell'economia reale.